Allora, adesso abbiamo il dottor Roberto Stella, che è componente della Commissione Nazionale Formazione Continua e ci parlerà appunto della simulazione nella formazione continua del professionista della salute. Grazie. Grazie dottoressa Urgenti, grazie dottor Maccari. Buongiorno a tutti, ringrazio della presenza. Inizierò con un accattivante, sarò breve, e spero poi di mantenerlo durante la mia relazione. Tema la simulazione e la formazione dei professionisti della salute. Non vi farò vedere troppi riferimenti normativi, ma cerco di fare un giro intorno alla simulazione, cercando fondamentalmente di puntualizzare due aspetti. Innanzitutto, simulazione è tante definizioni. Io ne metto una e come immagine lascio, come vedete, una delle cose che più ci sono familiari, come una delle prime simulazioni che sono entrate in medicina, che è quella dell'emergenza cardiopolmonare. Tutti ci abbiamo lavorato, tutti abbiamo imparato sul manichino ad apprendere questo tipo di competenze. Su questa definizione voglio sottolineare una cosa, e chiudo la mattina, ma riprendo quello che ha detto dottor Maccari in apertura, simulazione in medicina è una tecnica di formazione del personale sanitario che si avvale di scenari clinici simulati. Sottolineo tecnica per dire che stiamo parlando di un qualche cosa che ha a che fare con quello che Marco Maccari stamattina ci ha detto in maniera molto puntuale, approfittando della presenza in questo magnifico auditorio. Cioè saper fare attività pratiche, un superamento di quello che è un atteggiamento nozionistico nella formazione verso un atteggiamento che è quello di acquisire comportamenti e quindi di superare quello che per tanti anni è stato un modo con cui ci siamo tutti avvicinati al nostro aggiornamento e alla formazione professionale. I partecipanti possono commettere errori, possono imparare dagli errori senza rischi per il paziente, trasferendo poi abilità e le conoscenze acquisite nelle situazioni reali. Io credo che il fondamento di questo passaggio è legato a un cambiamento profondo che c'è nelle professioni, in particolare nelle professioni sanitarie. Allora se cambiano le professioni sanitarie deve cambiare anche la formazione e forse oggi la parola su cui dobbiamo investire di più è innovazione e quindi qualche cosa che già conoscevamo inserirlo in maniera un pochino più sistematica all'interno dei nostri percorsi formativi. Io vorrei parlare facendo questi due riferimenti. Il primo è perché simulazione. Il secondo invece sarà un riferimento veloce, già stato ripreso più volte durante la mattinata, sulla simulazione del sistema ICM. Allora perché di simulazione? A mio avviso ci sono almeno cinque buoni motivi per fare simulazione in ambito di formazione dei professionisti sanitari. Un primo motivo è il cambiamento del paradigma formativo. Qui vi ho messo un articolo del New England che dice salutiamo definitivamente, diciamo goodbye alla lezione d'aula nella formazione delle scuole di medicina ma poi però fa una domanda successiva che quella è un cambio di paradigma, è una moda che attualmente c'è che passerà. Ma io credo che sia un profondo cambio di paradigma. Ma questo ha a che fare con altri elementi che vorrei illustrare che credo siano quelli sui quali tutti dobbiamo un po' fare riflessione. Oggi in maniera molto prepotente è entrata nella formazione dei professionisti della salute una serie di opportunità, di possibilità che sfruttano certamente in maniera molto massicce la tecnologia ma che non fanno della tecnologia il padrone della nostra formazione. la fanno diventare uno strumento importante perché il nostro sapere si trasforma in saper fare utilizzando strumenti potenti, efficaci che trasferiscono poi anche sul piano dell'apprendimento e dell'acquisizione di competenze queste loro grosse potenzialità. Quindi quello che sta succedendo è che nel panorama grande di tutte le cose che siamo abituati a utilizzare dalla lezione frontale abbiamo visto già i colleghi in precedenza che ci hanno parlato un po' di quelle che sono le attività che oggi sono ricomprese nei percorsi di formazione alla formazione sul campo ma ancora in maniera molto più importante molto più determinata attraverso l'e-learning, le smart technologies, la simulazione ma io vado oltre e dico che poi parleremo anche di altro della realtà virtuale, della realtà aumentata, della realtà mista di altre frontiere che oggi diventano strumenti che a mio giudizio dovrebbero entrare nel quotidiano della formazione di professionisti della salute e sottolineo questo aspetto professionisti della salute che è il valore più importante per il quale ci dobbiamo formare, aggiornare, non soltanto un elemento tecnico professionale ma anche come dirò poi un imperativo etico sul quale dobbiamo sicuramente confrontarci. Allora la simulazione perché? Un'ampia review è stata fatta su questa rivista dice fondamentalmente la sintesi è dobbiamo offrire una formazione basata sulla simulazione perché? Perché questo diventa un percorso conforme a due elementi ai migliori standard clinici, ai principi educativi, ai principi etici che ogni istituzione, che ogni organizzazione sanitaria dovrebbe adottare. Quindi se questo è vero, questo tipo di formazione dovrebbe entrare in maniera un pochino più ampia, più determinata in questo ambito formativo. Il secondo punto è la sicurezza delle cure. Si stima che gli errori medici causino ogni anno circa 1.200.000 morti. Questa è una recente review americana che dice che un paziente su 10 ha subito danni nel ricevere assistenza sanitaria. 43 milioni di incidenti di sicurezza sui pazienti ogni anno, più di 42 milioni di dollari il costo annuale a causa di errori sui farmaci. Ci sembra un buon motivo per migliorare la nostra formazione, per migliorare le nostre performance? Credo di sì. Credo che questo sia già un elemento sul quale li frettri. Il secondo è quello di gestione del rischio clinico. Questo è un manuale che venne fatto un po' di anni fa in collaborazione con il Ministero della Salute, la Federazione Nazionale degli Ordini del Medici, gli infermieri. Molti colleghi in aula ci hanno partecipato attivamente e il dottor Bovenga in prima fila che annuisce e tra gli elementi che in qualche modo caratterizzavano uno dei capitoli di questo manuale c'era quello di definire quali sono le classi, per così dire, di rischio in sanità. Bene, qui ce ne sono identificate alcune, io ne ho evidenziate due, sulle quali in maniera molto importante e rilevante una formazione fatta attraverso la simulazione può determinare dei grossi cambiamenti. Quindi può ridurre in maniera molto forte e importante il rischio legato ai fattori organizzativi e gestionali, legato alle condizioni di lavoro, può abbattere veramente il rischio legato al fattore umano sia individuale sia in team come oggi c'è in qualche modo dato di lavorare tutti quanti. Il lavoro di equip espone certamente, forse in misura minore, ma espone in maniera significativa a quello che è un rischio professionale. E poi un'altra cosa, questa è una vecchia diapositiva, però che in qualche modo ci deve fare anche pensare rispetto a quello che è un panorama del pericolo considerato a vari livelli. Bene, quante sono pericolose le cure in sanità? Tanto perché se guardate in questa diapositiva sono sullo stesso piano di alcune attività che sono veramente ad alto rischio, tipo il bungee jumping, tipo scalare una montagna, sono meno rischio di guidare un'auto, sono meno pericolose degli incidenti chimici, sono meno pericolose dei voli charter e sono assolutamente molto molto più pericolose rispetto a quelli che sono, come vedete, il traffico sulle ferrovie o i viaggi programmati. Quindi noi siamo in un ambito in cui, come vedete, il totale di morti per anno sale in maniera vertiginosa e guardate qui ci attestiamo intorno ai 100.000 in questa valutazione. L'altro elemento che è già stato citato è fare simulazione, certamente aumenta il livello di apprendimento. Lo diceva la dottoressa che mi ha preceduto, sulle tante piramide dell'apprendimento, questa è una di quelle che utilizziamo, però focalizziamo questo aspetto. Dopo due settimane ci dimentichiamo quasi tutto di quello che facciamo, utilizzando sistemi e metodi di formazione tradizionali. Bene, con la simulazione e con le attività dirette nel cui c'è una partecipazione del professionista a quello che è il percorso di formazione, arriviamo addirittura al 90% di ritenzione, voglio dire, di acquisizione di comportamenti che restano nel tempo. Altri elementi sono quelli che c'è un cambiamento in atto veramente importante nel percorso del processo formativo. Perché? Perché la simulazione permette di apprendere in maniera esperienziale, senza correre rischi, con un'efficienza elevata di quelli che sono i percorsi formativi. È una palestra, è una palestra nella quale possiamo allenare la nostra mente ma anche le nostre manualità, mettendo in pratica nuove competenze. Possiamo allenarci su nuovi comportamenti, possiamo consolidare in maniera molto più marcata all'apprendimento. E poi per chi inizia una professione, la simulazione è certamente uno strumento potente perché permette in qualche modo di consentire una sorta di apprendistato simulato a chi deve prendere decisioni o deve assumere il ruolo per la prima volta nella propria vita professionale. Stimola la riflessione. È un qualche cosa che ci invita e ci porta a dover riflettere su quelli che sono i comportamenti, su quelle che sono le decisioni. Migliora certamente la capacità di prenderle. Ci abitua a una visione sistemica dei problemi e delle opportunità che sono quelle che abbiamo nell'ambito della nostra attività professionale nel momento in cui ci si pone un quesito, ci si pone un evento al quale dobbiamo rispondere. E un'ultima cosa che non è indifferente, fare formazione certamente funziona di più se ci divertiamo. Funziona di più la formazione che ci fa sorridere, che ci fa passare del tempo insieme ad altri colleghi, che non ci annoia, che ci permette veramente di riempire queste ore, che sono ore che sottraiamo ad alti piaceri della nostra vita e che siano anche una connotazione, se volete, non dico divertente nel senso letterale, ma che ci impegna anche con il sorriso, sicuramente l'apprendimento e quello che portiamo a casa e molto molto di più. E un'ultima riflessione credo che debba essere fatta rispetto a quello che dicevo prima. Fare formazione con la simulazione risponde anche a dei principi e delle riflessioni di tipo etico. Perché? Due semplici considerazioni. Apprendere nuove procedure complesse e invasive, accelerare la curva di apprendimento, però in condizioni di assenza di rischio per il paziente. E questo credo che sia un imperativo morale sul quale oggi non possiamo troppo sottrarci. E l'altro è quello di rispetto di un obiettivo etico che dovrebbe essere prioritario. E qui la frase, concedete la bella, mai la prima volta su un paziente. E questo credo che ci possa mettere nelle condizioni di poter operare al meglio, anche considerando che le persone su cui agiamo non devono essere degli strumenti e non devono fare, e come dirò poi infine, la nostra palestra di allenamento quotidiano per le nostre competenze, per le nostre capacità. Infatti, tra gli aspetti etici della simulazione, ne possiamo considerare alcuni che sono, credo, da parte di tutti condivisibili. Uno, migliori standard di cura e migliori standard di una formazione, gestione dell'errore, della sicurezza, autonomia del paziente e, perché no, rispettare anche dei criteri, dei concetti di giustizia sociale e allocazione delle risorse. Quindi, quello che può essere una sintesi, il paziente deve essere sempre più nelle nostre percorsi professionali messo in sicurezza. Non può diventare la materia prima o uno strumento di allenamento per quanto riguarda le nostre, diciamo, capacità professionali che dobbiamo acquisire dalla nostra vita. Tutti noi, che operiamo in ambito sanitario, medico, infermieristico, sappiamo bene qual è stata l'alba della nostra professione, quella di sperimentare direttamente sul paziente, manovre, sperimentare direttamente, attività cliniche, strumentali, anche a rischio non indifferente. Bene, oggi credo che la tecnologia ci permette di non fare più questo tipo di esperienza, di lavorare in sicurezza e di aumentare questo livello che è quello di attenzione alla persona. E mi piace sottolineare come il passaggio che tutti quanti stiamo sottolineando, quello di passare dal curare al prendersi cura, deve avere un significato importante anche nel momento in cui facciamo formazione o lavoriamo nell'ambito dell'apprendimento. La simulazione quindi cos'è? Una tecnica per trasferire le conoscenze apprese in aula in un ambiente di apprendimento appositamente creato. Consente ai decenti di mettersi alla prova in un ambiente il più vicino possibile a una situazione clinica reale e offre l'opportunità di pensare sui loro piedi e non sulle loro sedie. Questa mi sembrava una frase simpatica che potesse in qualche modo dare l'idea di come questo cambiamento in qualche modo si realizzi e come ognuno di noi lo possa fare. E infine promuove l'uso del pensiero critico e l'uso del pensiero analitico che se volete sono in questi ambiti quelli che hanno una valenza maggiore. Ma questo perché? Perché ci si mette di fronte a volte a situazioni e a scelte che devono essere in qualche modo risolte in pochissimo tempo. E a volte se non abbiamo un background di competenze già acquisite e di esperienze già in qualche modo fatte precedentemente è difficile prendere decisioni. E l'esempio più importante credo e tutti lo sappiamo e lo dico ma semplicemente per ricordarcelo ci viene dal fatto che tutto quello che noi abbiamo imparato con la simulazione l'abbiamo imparato dall'aviazione. L'abbiamo imparato da chi in qualche modo ha dovuto mettersi di fronte in maniera inevitabile, importante a quelli che erano rischi connessi a un'attività veramente pericolosa. E a volte l'aver sperimentato tanto può permettere di salvare molte vite. Ricordiamoci quello che accade sul fiume Hadson un po' di anni fa è stato fatto un film con Tom Hanks, non ricordo male e guardate cos'è accaduto. E' accaduto un qualche cosa che poteva diventare una tragedia decine di persone su un aereo e la tragedia non è avvenuta perché qualcuno aveva per decine e decine di volte simulato queste situazioni e quindi sapeva come comportarsi avendo dei tempi di decisione brevissimi sviluppando questo pensiero analisi immediata della situazione messi in atto delle procedure e soprattutto sapere esattamente come anche coordinare le persone con cui lavoravano. Bene, credo che questo sia un esempio che in qualche modo ci ha insegnato tanto e ci ha portato a dover stimolare sempre più questo tipo di percorsi formativi. Chiudo con pochissime diapositive credo di avere ancora qualche minuto per dire nel programma ECM come entra la simulazione. Beh, è già stato citato prima la simulazione entra da tanto tempo forse non ce ne siamo accorti può essere o ce ne siamo accorti tardi. Negli ultimi dieci anni io non vi faccio la storia dei dieci anni se no ho detto una bugia prima dicendo sarò breve e invece voglio chiudere velocemente. Nel primo agosto in data primo agosto 2007 è stato siglato un accordo Stato-Regioni che riordinava un po' tutto il sistema e nell'accordo tra l'altro veniva riportato diciamo il discorso sull'acquisizione di crediti e quanto abbiamo già visto prima. ma la cosa più importante è che veniva fatta una riflessione sul fatto che lo sviluppo della formazione continua di professionisti della sanità doveva richiedere e prevedere nel tempo l'utilizzazione di metodiche sicuramente in forma integrata quindi non in forma esclusiva appropriate sotto il profilo didattico efficaci sotto il profilo del risultato che pur salvando le attività residenziali tradizionali alle quali ancora oggi siamo molto legati a volte per motivi diciamo di praticità ricorriamo però che includessero qualche cosa di nuovo formazione sul campo formazione a sostanza bene la normativa quindi sin dall'avvio del sistema quindi nel 2010 fino ad arrivare a questi ultimi anni ha sempre avuto tra i propri incentivi e riferimenti questo argomento tant'è che come diceva dottor Iognocco in precedenza ripercorrendo in maniera molto puntuale e precisa l'evoluzione aritmetica del sistema ECM la simulazione è stata inclusa dall'inizio fra le tipologie di formazione interattiva che in qualche modo ha avuto un incentivo importante attraverso un bonus bonus che veniva riconosciuto per ogni attività abbiamo visto già prima che questo bonus era di 0,5 crediti ore in più rispetto alla formazione standard e questo tipo di formazione rientrava assieme ad altre role playing formazione interattiva di vario genere problem solving eccetera 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 ma se andiamo avanti negli anni questo era il riferimento dell'allegato all'accordo Stato-Regioni di allora 1,5 crediti ma andando avanti negli anni il nuovo accordo Stato-Regioni e quindi con i criteri 2017 è stato ancora riconosciuto e valorizzato a questo aspetto della simulazione e delle attività formativa interattiva come uno degli elementi qualificanti diciamo l'aggiornamento dei professionisti infatti abbiamo visto prima e lo riprendo veramente in un in un secondo al di là di quello che è il credito ora abituale stabilito attraverso la formazione interattiva si può acquisire questi bonus che riguardano tre particolari caratteristiche uno formazione a piccoli gruppi questo credo che sia da tutti condiviso sia un qualche cosa sul quale credo non ci siano grossi dubbi si impara meglio in pochi si imparano le procedure le metodiche operative confrontandosi potendo anche sperimentarli direttamente cosa che in una piccola classe è possibile ma non è possibile sui grandi numeri quindi una formazione interattiva sui grandi numeri è una formazione che non ha valore e non ha senso quindi 0,3 se lavoriamo in pochi 0,3 se entriamo in tematiche di interesse nazionale o regionale ma avete visto prima quale tematica può essere più interessante oggi al di là dei vaccini eccetera se non la sicurezza del paziente la responsabilità e la gestione del rischio e quindi questo è il secondo bonus e il terzo bonus è quello che viene stabilito di default che viene dato per la simulazione come attività che merita un riconoscimento maggiore quindi al di là di tutti gli aspetti se volete più operativi più legati al metodo alla bontà del metodo alla necessità anche sul riconoscimento credo che sia anche una cosa importante quella di poter dire che lavorando sulla simulazione si guadagna di più in tutti i sensi questa è la tabella che riporta i crediti 2017 in cui sono riportate esattamente le tipologie credo che l'avete vista prima dal primo gennaio dell'anno prossimo sarà operativo e sarà in vigore il nuovo manuale il nuovo manuale non fa nient'altro che confermare quello che è stato detto questo bonus rimane e quindi nella formazione del prossimo anno e dei prossimi anni ci sarà un particolare riconoscimento questo perché abbiamo detto la commissione nazionale ha lavorato tanto su questo anche promuovendo la simulazione nelle attività formative nelle regioni attraverso convegni eccetera ci crediamo riteniamo che quegli elementi di cui ho parlato prima sicurezza delle cure miglior qualità delle nostre performance miglior apprendimento e metteteci poi tutto quello che più vi piace in un strumento oggi veramente potente che può fare la differenza rispetto a un professionista qualificato professionista che sa svolgere il suo lavoro bene un professionista che si mantiene sul livello di performa direi più sullo standard concludo sottolineando come questo incentivo non sia soltanto un qualche cosa di numerico non è soltanto un mero calcolo di crediti per attività per ore ma è veramente un investimento sul quale la commissione nazionale vuole lavorare anche per i prossimi anni vi ringrazio molto e buon pranzo grazie dottor Stella per il contributo e per l'intervento molto competente che aveva già fatto anche sulla simulazione in altre sedi importanti con referenti istituzionali colgo l'occasione riprendo rapidamente l'intervento precedente della dottoressa falsini sugli obiettivi formativi solamente per anticipare delle linee di lavoro che poi domani saranno esplicitate in maniera ancora più evidente per quanto concerne il lavoro dell'osservatorio quindi si parlerà anche di l'osservatorio nazionale per la qualità ovvero la difficoltà che ad oggi magari è stata riscontrata in alcuni contesti anche da parte del provider di individuare l'obiettivo formativo giusto da inserire in ogni attività formativa quindi il lavoro che vorrebbe fare la commissione su cui questa commissione ha cominciato a lavorare vedrete che a breve verranno pubblicate anche dei comunicati nel quale già a partire dall'obiettivo 6 quindi proprio quello sulla sicurezza del paziente il risk management verranno indicate le tematiche da inserire opportunamente in quell'obiettivo è un lavoro che vorrebbe continuare a essere svolto quindi le cui basi sono state gettate da questa commissione ma come vorremmo continuare a fare come linea di lavoro proprio l'osservatorio per la qualità potrebbe aiutare per cercare di aiutare i provider in modo tale che anche per l'importanza di inserire l'obiettivo giusto anche per la costruzione del dossier formativo da parte del professionista consentire aiutare il provider per ogni obiettivo a indicare una serie di tematiche che potrebbero essere contenute in quell'obiettivo come linea di lavoro oggettiva che potrebbe essere sviluppata anche dalla prossima commissione nel corso del triennio quindi ve lo volevo anticipare perché sarà un punto importante su cui a breve arriverà un comunicato per quanto riguarda quell'obiettivo su cui abbiamo collaborato a stretto contatto con la commissione salute e con i referenti del gruppo dell'osservatorio sulle buone pratiche sulla qualità e sulla sicurezza delle cure ma continueremo a lavorare per quanto concerne anche gli altri obiettivi su cui oggettivamente è opportuno che vi sia anche una linea di indirizzo potrebbe essere utile da parte della commissione medesima do la parola adesso alla dottoressa Ugenti per quanto riguarda la presentazione di quello che sarà invece l'attività del pomeriggio di oggi Sì allora adesso ci sarà la pausa come da programma quindi riprenderemo poi alle 14.30 e si aprirà con un intervento appunto sul manuale della formazione continua del professionista sanitario poi seguirà proprio un focus sul dossier formativo preceduto appunto dalla proiezione di un video dove viene spiegato appunto come si opera e cosa avviene poi ci saranno gli interventi dei relatori su questo argomento poi ci sarà alle 16.30 la presentazione diciamo dei dati da parte del presidente Bovenga il presidente Cogeps e a seguire un intervento da parte del ministro della salute sulla riforma degli ordini di cui vi parlavo questa mattina e quindi dell'inserimento e dell'introduzione delle professioni sanitarie tutte sotto l'ECM e chiuderà poi un intervento sempre del Cogeps del dottor Cestari dove vengono date delle indicazioni più operative sul nuovo manuale del professionista alla luce proprio della legge 3 del 2018 quindi ci diamo appuntamento alle 14.30 possibilmente puntuali e buon pranzo per la legge per la legge per la legge per la legge